ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale e come prima cosa vi ricordo subito se vi fa piacere se vi va di iscrivervi al mio canale basterà semplicemente cliccare al tastino che trovate proprio sotto il mio video e attivare la campanella in modo da non perdere le prossime uscite quindi mi arriverà una semplicissima e mail ogni volta che ci sarà una nuova scelta sul mio canale anche se ormai cerco di essere sempre brava e quindi pubblico negli stessi giorni in modo che così e lo sapete e siete preparati quindi sempre verso il lunedì mercoledì e venerdì salvo eccezioni e salvo qualche video particolare che magari qualche vlog vediamo un attimo che presto voglio tornare a fare però solitamente questi giorni troverete sempre una nuova uscita sul mio canale però ovviamente attivando la campanellina sarete sempre aggiornati con un email e quindi con una notifica e saprete per tempo che è uscito un nuovo video allora sto facendo l'intro per gli svuota la spesa per chi non mi conosce io sono Michela questo è il mio piccolo mondo sono una mamma una casalinga quindi adoro condividere con chi mi segue le mie passioni sono davvero tante che vanno dalle piante come potete vedere anche dallo sfondo e dal curare la casa quindi sistemarla metterla a posto il makeup quindi c'è anche la sezione per il beauty e per il benessere perché sto facendo un nuovo programma che mi sta portando tanti tanti benefici per quanto riguarda la salute comunque trovate tutto nelle mie playlist nei miei vari video fatevi un diretto insomma se avete voglia di conoscermi meglio e anche per questo vi ricordo che se avete voglia di conoscermi di più e di interagire di più con me mi trovate su instagram vedrete il nickname sovraimpressione troverete anche il link diretto sotto nell'infobox e con appunto il link per seguirmi su instagram lì sono molto più attiva quindi avremo un modo di interagire di più perché è un social molto più veloce rispetto al canale e quindi avremo un modo di conoscerci meglio poi se mi manderete un messaggio privato mi dite che mi seguite sul canale sarò felicissima di ricambiare il segui quindi avremo un modo per questo di seguirci e di conoscerci di più questo è l'intro per quanto riguarda la spesa noi ci piace mangiare penso un po' come tutti quindi durante la settimana cerco di registrare sempre degli spezzoni di video dove vi mostro quello che acquistiamo andiamo spessissimo al lidl ma non solo tipo la carne noi andiamo comprare al pewex ci piace molto la qualità della carne quindi per quanto riguarda carne e guanciale queste cose qua ci dedichiamo al pewex poi abbiamo comunque i nostri punti di riferimento per quanto riguarda i supermercati quindi spesso andiamo al lidl ce l'abbiamo vicino casa ci sono sempre belle offerte abbiamo l'idol plus quindi l'idol euro spin anche quello ogni tanto ci andiamo perché ci sono alcune cose che preferisco tipo yogurt proteici che in questo periodo sta facendo la dieta per le merende gli yogurt per un nicolas da bere che lui adora quindi andiamo anche euro spin e anche al todis questi sono diciamo quelli che usiamo di più dove andiamo di più durante la settimana a fare la spesa poi c'è sempre anche qualche spezzettino dove mostro le cose che prendo al mercato perché ho la fortuna di avere il mercato sotto casa che è aperto da lunedì al sabato quindi la verdura la prendo lì niente questa era l'intro per quanto riguarda gli svuota la spesa ora vi lascerò a tutti gli spezzoni con il sottofondo della mia carissima lavatrice perché oggi è venerdì e sto appunto nella cura della casa e quindi c'è una bella lavatrice in atto io vi lascio agli spezzoni della spesa settimanale quando un bacione grande e vi auguro un buon fine settimana ciao dalla spesa di qua perché di la c'abbiamo la pizza sul tavolo quindi abbiamo preso questo pellet perenza perché non si trova più dalle roma planning il pellet normale quindi intanto prendo questo e poi glielo ordino e poi abbiamo preso un pacchetto di scesilla tonnetto con manzo due pacchetti di queste crocchettine uno io lo tolgo i piattini che mamma bisogna da mangiare sotto casa e uno per Elsa e una catisfaction per Elsa poi da Dodis ho preso un uomo di Pasqua per mia madre e mia sorella ma poi gliene prenderò anche un altro poi le noci ci sono quattro barrette proteiche quelle che amano Todis e due lattini di coca zero perché la coca normale non c'era e domani ci sarà un'altra spesa ciao allora aggiunta spesa ci sono anche delle cose dai cinesini allora il miele millefiori dei cinesini abbiamo preso due mascherine per Nicolás e due per me e questa carta con effetto muro e per rivestire una cosa poi le merendine i trancetti al cacao i rotoletti alla nocciola poi ci sono i croccole il tè nero i croccole il pecorino poi c'è l'insalata esotica la nutella sushi box i pazzo e le scatolette per i cattini sotto casa di mamma e tic tac e in Toys abbiamo preso due uova di Pasqua di queste qua con dentro i pop-it e orre guarda la spesa al Pewex sono carica le buste sposto l'uovo di Pasqualone di Nico e iniziamo da qua c'è latte intero poi un galvanino per Nicolás tanto la cesano e i buste e i detersivi e questa qua che è come si chiama l'acqua di latte di riso due pacchi di pasta integrale abbiamo lisana un po' di pave banane e un sacchetto di patate misa amore poi c'è un pacco di hamburger da quattro e queste invece che sono cuore di costata confezione famiglia queste merendine da far provare a Nicolás di solito i baby belle gli piacciono quindi per ora questo i detersivi del mese abbiamo preso vabbè un entifricio per Nicolás che va dai 6 ai 12 anni il colluttorio sempre per lui questo che prendiamo sempre pasta del capitano detersivo per piatti Nelson che è il mio preferito sapone intima Neotromed poi Deox ammorbidente concentrato fiori di primavera intesa doccio shampoo per uomo finish brillasciuga per i pavimenti ho preso questo per parquet cotto smac express lo shampoo aloe hidrabomb della Fructis poi lì c'è della Luxury il sapone mani e corpo muschio aloe la colore la ricarica fazzoletti tempo cattura colore con ammorbidente poi un mocio nuovo per quando faccio le scale l'entifricio passa nel capitano al carbone e passa nel capitano effetto whitening il colluttorio per noi di odorante per la lavastoviglie in uvenia per me poi ci sono due Gatisfaction per Elsa un pacco di batterie quelle misse ci sono sia le stilo che le mini stilo omino bianco color più per la lavatrice per il duo gel per la lavastoviglie questo è l'alcol spray per oggetti e superfici lo utilizzo prima di sterilizzare i prodotti per le unghie e poi c'è un cassetto per le scarpe che ho preso per Nicolas poi qui c'è la lettiera per Elsa eco clean perché il pellet non si trova più tanto e da Carrefour abbiamo preso altre due uova e c'è quella di Chiara Ferragni e quelle di Peppa Pig e Maxi sempre della Kinder per Nicolas ecco eccole qua ok ah e ho ripreso un altro di questi a riservire la porta laggiù guarda in affesa Lidl ho preso un geranio muesli questi qua questo era l'omaggio della Lidl Plus questi stavano in offerta ho messo funghi con porcini e una cuore di iceberg e ora guarda giunta per la spesa per quanto riguarda le verdure al mercato ho preso i soliti sacchetti che vedete è un po' sparchi di terra che ora pulisco perché ho preso anche una begonia che ho messo fuori ora vi faccio vedere e comunque se riesco ho preso l'altra volta si è ricordato un ragazzo che avevo lasciato un sacchetto l'acqua quindi me ne ha fatti prendere quattro ho preso il solito misto di verdure da fare al forno le zucchine julienne doppio e versa quella doppia quella rossa e bianca e un pacco di finocchi non c'era questa volta quello con le carotine quindi ho preso solo loro vorrei guarda ah vi faccio vedere la begonia ho preso quella begonia che ho messo subito fuori intanto ho pure i panestesi che dopo devo ritirare oggi è una bella giornata fa caldo e l'ho messa subito fuori perché in casa questi risori non mi morivano sempre quindi qua dovrebbe vivere meglio insieme alle altre e c'è il geranio che ho preso ieri ciao aggiuntina spesa amori al tutto market e al mercato delle scatolette per Elsa ho preso l'acido di vino bianco gambardella una pizzetta rossa per Nicolas questo formaggio light che è buonissimo con gli sfalmabili una coca zero la limonata questa è la valfrutta che è la preferita di Nicolas catisfaction per la gattina queste le ho prese al banchetto sotto casa che sono le sue preferite tonno rosa e poi ho preso una cassa d'acqua egeria di Roma e orreguar venerdì 15 quindi vediamo un attimo se riesco a mettere oggi il video e ho preso un'aggiuntina sotto casa per il pranzo perché ci facciamo i toast con Nicolas quindi ho preso due pacchi questi sono della Montorsi senza glutine questo dovrebbe essere a rosso tecchino al forno quindi due pacchi poi due pacchi di bicchieri che li avevamo terminati il latte il latte parzialmente scremato della Polenghi Nicolazzo ogni volta che andiamo sotto casa si prende i bagliocchi che vi adora quindi un pacco di bagliocchi questi del mulino bianco poi c'è sempre della Montorsi e un pacchetto di mortadella e uno di salami vediamo qual è questo salami ungherese che è più buono per me poi vabbè ho comprato delle cose io perché voglio sistemare lo sfondo dove faccio i video quindi ho preso due carte decorative e anche questa troppo carine sono ah e poi la super colla vabbè e niente ciao buon fine settimana a tutti e buona Pasqua perché domenica sarà Pasqua e lunedì sarà Pasquetta quindi buone feste a tutti quanti e un bacio ciao grazie a tutti grazie a tutti